Sì, sì. no ah 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 a a a a a a a in a a a no no ok ok e , , , , , , . , , Sì, questo è un po' più grande. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 ok. . 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 Sì Ti ... No, non puoi volerci. E ok, se non puoi volerci il progetto! Percival lo stesso tempo, il progetto un progetto e uno che lo socia suci! Tu pregi nuovi questi due�, tu devi loro! c'è non è così in questo la scuola 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 a la scuola la scuola i suoi l'ai fatto Sì 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 Gio Sì 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 Quindi, si Dankeva a questo. Quindi, la squadra hanno una scelta più grande, e poi si vedeva a scelta, la scelta di una scelta di questa scelta, se non ci si riuscite. Perché, questo è un gioco, perché, la scelta è il gioco. Perché... Non ci sono state riuscite in questo senso, e non ci è la scelta, perché non ci sono in gioco, così, un gioco. Sì, abbiamo fatto un po' Il nostro paese è un po' Molto per il nostro paese Il nostro paese è un po' Vi ha fatto un po' Noi ci sono un po' Le ho scopo di un po' Non è il po' Il nostro paese è un po' Il nostro paese è un po' Il nostro paese è un po' è un po' Si è un po' servit mutualmente se tracağ hanno era lo speciate venghi twittat venghi sud ma inom ạcini il molito l il volito dic furitano 2 3 Perché è così che il modo di tutto. Ma non si tratta, il tempo si tratta, ma non si tratta, però non si tratta. Ma questo è quello che non si tratta, ci sono di gioco in gioco, si tratta la gioco come gioco. Quindi si tratta, se gioco non si tratta, Non è vero. Noi, non è vero. Non è vero. Non è vero. Noi, non è vero. io questo per il tempo si può fare un po' di tempo però si è un po' di più 3 2 2 4 3 2 3 3 4 5 5 Sì, non mi piace, non mi piace. . ? ? ? ? Sì . 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 Grazie a tutti. La finalità. Enンド oppure un giusto così forte. Attaccoorship di Woodyfre. Perché il risultato, ognuno imp八 zasano, giù tutti i miei aggiorni, eworth un´ll principe. Wikörtino impagna. E proporzione che giuste. e non lo sanno e e e e e non si 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 il 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 e se Quindi, stai facendo, è difficile. Quindi, tu e le metto il tuo giro. Il modo di essere diversi. Il modo di essere così, come giro, come giro, come giro, come giro, come giro. Alla cosa che si tratta, come giro. Si, La scuola che si può esservire. Sì, il momento è molto legato. è forte, non è solito. Questo è certo perché il tempo tu si sta bene, è molto lungo... Non siamo impiaciati no. Ah, nel gioco uno stòRL a me... Ok? Ok. Perché hai fatto una scornazione di staffersi e veramente dimenticato. Ti ha visto che il nostro lavoro sono molto vicino. è stato molto vicino che spavano alcune situazioni così… come è giocato? Beh, è vero ma che è piaciuto, da noci. Beh, se si è piaciuto, si scempi. la parte si sono poco ancora poco che fa io sono con te ha fatto e anche il team è sovra iscriviti a Gio è è la è 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 Sì, grazie. L'amore è stato così. Se uno uno guarda, il giro vido. Se uno guarda, lo vedo. Il giro vido. Il giro vido. Il giro vido. Il giro vido, lo vedo. Quindi, gli sordi potente non guarda. Se si, se si, 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 si non stai va a fare. No, si, si, si. la la una nessa il allora c'è già Non c'è nessuno lo sopito Chiuso è già un po' Ci sceglge quando si troppo Ci si siamo pensi che si troppo Non sopito ma tutte le costruzze Ci sceglge Ci sceglge Ci sceglge Sì. 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 Sì.